Entro la fine della stagione estiva inizieranno i lavori al porto turistico agropolese. L'intervento finanziato dalla regione Campania è pari a 2 milioni di euro ed è stato ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione dell'attuale bacino del porto turistico, primo lotto per i lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli. L'intervento consiste nell'operare l'escavo del bacino portuale per aumentare il pescaggio delle imbarcazioni di circa un metro e mezzo due metri rispetto a quello attuale. Come sapete noi siamo destinati a un finanziamento per l'escavo e per la progettazione esecutiva del nuovo porto. Il nostro compito era dare alla regione le analisi di quello che c'è in questo bacino, quindi verificare con degli scavi e analisi di laboratorio cosa c'è, perché poi quello che noi andiamo a scavare dal porto naturalmente va andrà smaltito, quindi poter essere smaltito servono le analisi di quello che c'è. Le abbiamo fatte, le abbiamo inviate alla regione, la regione ha molto ottenuto queste analisi, ci farà il decreto definitivo, a quel punto la gara di appalto e io mi auguro veramente che entro fine della stagione, quindi ottobre, si potranno cominciare i lavori. Una nota positiva per l'economia del porto turistico agropolese, un maggiore pescaggio equivarrà alla possibilità di ingresso all'interno dell'approdo, di imbarcazioni di maggiori dimensioni rispetto a quelle che hanno avuto accesso fino ad oggi. Il bacino portuale più grande del Cilento e tra i più importanti di quelli presenti a sud di Salerno diventerà appetibile anche per chi in passato era costretto a scegliere altre mete per problemi di pescaggio dei propri natanti.